Buonasera signore e signori, sono Ash88, benvenuti con un altro episodio, un altro countdown Siamo almeno 4 giorni dall'inizio della nostra guida a Pokémon Y e quest'oggi andiamo a vedere un po' quali sono i Pokémon leggendari che ci aspettano in queste due versioni Allora, innanzitutto, qua dice che scoperti di recente sono Zygard, Xernas e Ivelta Ovviamente credo che Xernas si trovi su X e Ivelta su Y, credo Poi ho iniziato un pochino a leggere perché volevo un po' vedere quello che c'era Qui dice che potremmo trovare Articuno, Zapdos e Moltres a seconda, appunto dopo l'ingresso nella sana d'onore del Pokémon iniziale che abbiamo scelto Quindi se abbiamo scelto Chespin, che era quello d'erba Articuno Fennekin, che era quello di fuoco Zapdos E Froakie Moltres Ovviamente noi, ho visto che avete detto in molti o Ceglicespin oppure Fennekin Io invece credo proprio che utilizzerò Froakie Però, ecco, andremo a vedere di catturare e apparirà Moltres Questi Pokémon fuggiranno immediatamente Ma se riuscirà a trovarli ai 11 volte Andranno a posarsi nell'antro talassico della Baia Azzurra Dove potremmo catturarli Ovviamente Con... credo che per trovarli sarà un po' come si trovava sui Kun Su Cristallo Che ci dice la posizione dove era E credo anche che l'antro talassico della Baia Azzurra sarà un posto della mappa Non lo so Qui vediamo a vedere Un po' di screenshot sicuramente Quello più bello è Zapdos Quello è poco ma sicuro Però ecco, in questo caso noi andremo a prenderci Moltres Presumo Presumo che sia lui Quello che cattureremo Poi, dopodiché, qui ci dà la didascalia di Articuno, Zapdos e Moltres Vabbè, queste sono le vecchie diasticalie che ormai tutti sanno E poi abbiamo anche Zygarde La regione di Kalos ospita un altro Pokémon leggendario Zygarde O Zygarde Farlo entrare nella tua squadra Questo Pokémon leggendario trascorre l'esistenza immobile nelle profondità di una caverna Si dice che appaia e liberi il suo potere misterioso Solo quando l'equilibrio dell'ecosistema della regione Kalos è in pericolo E in effetti sembra una specie di lombrico Fatto di diamante, sì, una cosa del genere E ho guardato ed è di tipo Dragoterra Ha Frangiaura che è in grado di invertire degli effetti dell'abilità di Auro Folletto Che è di Xernas E Aura Tetra di Iveltal Qui possiamo vedere vari sprite, insomma, del Pokémon Eccole qua Vedi anche quando attacca, qui c'è un bot di Likitang Frangiatura Inverte gli effetti di queste abilità Indebulisce le moti tipo Folletti, tipo Buio Ok Forza Telluri che è una moti tipo Terra che solo Zygarde può imparare Questo potentissimo attacco può provocare danni enormi a più avversari E il Pokémon impotente Zygarde vive nella profondità della Grotta Climax Che si trovano in percorso in T-Shot tra Fluxopoli e Ponte Mosaico E così saremo noi praticamente Poi scendendo un po' troviamo quelli che sono le immagini, gli sprite Dei Pokémon leggendari, veri e propri Che troviamo sulla custodia, nella parte esterna Della nostra, appunto, custodia di gioco E i due leggendari più famosi Ovvero un cervo e una specie tipo di Boh Credo che questo qui assomiglia molto I Veltal A quei draghi Che usavano su Avatar Quelli che ci collegavano la coda Mi assomiglia molto Questo qua, appunto Xernas è di X L'altro I Veltal è di Y Questa è Aura Folletto E Aura Tetra Questo qua è Pokémon di tipo Folletto Questa specie di Stambeco Cervo, quello che è Mentre l'altro È un tipo Buiovolante Sì, una specie di uccello Questo è Pokémon della creazione E questo è della distruzione Quindi sono i due opposti Tra l'altro Xernas ha Le corna tipo color arcobaleno E le altre tipo Delle mani Che sembra che vogliono distruggere E qui andiamo a vedere degli sprite Dei vari Pokémon In 3D Durante il gioco Questo ho visto che impara Degli attacchi Xernas Tipo Geocontrollo Che radia Di luce Tutto il campo Mentre invece Abbiamo Per quanto riguarda Ypsilon Iveltal Che utilizza Ali di Elfato Che è una mossa Appunto esclusiva Che attacca Con una luce rosa Che brucia nel terreno Quindi Spero che Questo countdown Di oggi Vi sia piaciuto L'episodio numero 4 Appunto Quello che ci avvicina Verso la guida Votate, commentate Iscrivetevi Un ciao Da 788 Ciao ragazzi Ciao ragazzi